musica musica what the ah 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 musica 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 hakuna matata ragazzi ben ritrovati dal vostro ciccio che per 89 siamo tornati su resident evil 4 siamo tornati su resident evil e ci abbiamo adesso pure troppe erbe gialle ma che cazzo stai a di ma che stai a di ok l'ho ucciso eh che diavolo è questa cosa meglio non sapello le munizioni ce l'abbiamo il problema qual è il problema più grande e che io sento i maledetti eh sentendo i maledetti che probabilmente muoriveranno perché li sento davvero davvero vicini ci abbiamo solo oh si si non me ne avete dati tanti ma grazie 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 guardalo 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 vai così senza sprecarne mezzo eh e l'altro ce l'ha esatto no non ce l'ha la neanche la non l'ho preso ragazzi non l'ho preso allora aspettate 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 e mali estremi 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 rimedi ok erba rossa posso farmi anche quella che cura tipo tantissimo ho preso 5.000 pesetas allora facciamo così abbiniamo a questo e abbiniamo a quest'altro c'ho un sacco di munizioni buone 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 ma veramente buone ce ne ho proprio tante è che sembra questo schifo oh madonna mia ragazzi madonna mia ragazzi ok non me li fa mirare quindi significa che non li posso colpire qui non ci posso andare ma penso che qua invece ci possiamo andare mi ricordo di lasciare un bel pollicione in su ragazzi eh per supportare la serie per supportare me e già lo state facendo quindi vi ringrazio tantissimo ok ma tanto che mi erete da farlo non me dovete da loro ragazzi cioè o me ne date tipo a quintalate perché tanto non ci faccio più niente ragazzi ciao ok ah coglione ah coglione taci tua che ha detto Napoli secondo me perchè è potenziata ragazzi perchè fa tipo troppo male ve lo dico magari devo irmi ok come scivola ok meglio esagerà sti cazzo di Rambo ma che l'avete prodotto in serie porca puttana ok questo l'abbiamo fatto fuori quello l'abbiamo fatto fuori fate mandare aia fate mandare veloce un cazzo fate mandare veloce prendi vai giù ok ok meglio non utilizzà te voglio matar ok 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 ma non ragazzi è potentissimo aia ma come fai come fai come cazzo fai mamma mia usa ok non so dov'è però me lo sento fa un culo che parecchio vicino se lui scendesse da lì sarebbe una figata ragazzi sarebbe davvero una figata qua madonna niente oh che che ha detto e invece è sceso aspetta un attimo aspettate un attimo eh io preferisco far così preferisco fare così mi sembrava che era sceso invece e invece no non è sceso ok guardate quanto oro mi stanno dando qui son pieno di sti cosi sono pieno pieno di barili ma questo mi rimane sopra quanti cazzo ne stanno uscendo ragazzi porca merda faccio così prendo questa e faccio di questo aspettate che qua ci vuole un attimo a morire ok utilizzo questo e vado di questa aia ragazzi mi oh l'ho ucciso l'ho ucciso l'ho uscito aspettate un attimo togliete venite un attimo qua vi devo raccontare una cosa stupenda vai vai andate tutti affanculo moriteci male guardate che roba regà mamma mia se me son mosso bene qua quanti soldi mi stanno dando ma che mi avete sentito ma che siete fifa peggio di fifa siete ok le pesetas sono state tante benvenuto e vatta un affanculo va ok devo andarmene sopra ma quanti ne scendono ragazzi significa che son tipo infiniti lo dico io non fa lo stronzo non fa lo stronzo proprio non fare lo stronzo di arceganti ce n'ho sempre tante bravo ho trovato ah ok prima devo attivare un sensore qualcosa allora mi sembra d'averlo visto eh mi sembra d'averlo visto intanto prendiamoci tutte le munizioni che stanno tipo qua in giro tacci tua leon ahhh allora qua c'è una valigetta ah ok ho trovato delle dell'oro me ne stanno dando tanto eh me ne stanno dando tanto questo devo questo lo devo ammettere ok ok qui inseriamo la tessera ok ok quindi si è riaperto quei gradaggi là apriamo il primo ok quindi una parte della porta è attiva questi io li odio ma proprio mamma mia quanto le odio guarda se pure stronzo sei altro che vaffanculo va ok ricarichiamo perché mi sembra che ce l'ho le munizioni ok e quindi mi si apre la porta e posso correre velocemente mi sembra da questa parte qua e andarmene tutto sotto aprire questa porticina qua no non è vero andarmene direttamente qua corri 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 ottimo lion ottimo passi da gigante lion passi da gigante ok qui ho trovato le munizioni per il pompa e direi anche di utilizzarle perché tanto ce l'abbiamo mamma mia dopo c'è la pompa è eccezionale tutte e due vivi ok 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 vaffanculo ragazzi ok questo l'abbiamo fatto questo l'abbiamo fatto tante volte ci dovesse essere un tesoro ma non mi sembra di averlo mai visto no assolutamente no quindi ce ne andiamo da questa parte uh cecily cecily attenzione eh quanti bitoni sopra la rossi senti uomo lecca culo ah madonna pensavo che ci fosse un quick time event ho detto eh ma sai che t'ha fatto male guarda che ho un lanciareggi per te ah da quel coso non fa niente te lo dico non funziona quel coso vada leon now cosa ah si vedono le mutandine mo mi rispuda tipo alla demask alla demask porco due aia eccoli cara non te fai il figo non ti fare il figo perché io c'ho un lanciarazzi te lo dico ho un lanciarazzi non lo sente proprio eh magari spari a quelli brava ma sai che non sente neanche quelli ah ok però mi ha chiuso esci ok eh munizioni ne ho tante però la magnum non la voglio sprecare puci la pompa ce n'ho un pochino di meno quindi mi conviene fare così ricaricare ed andarmene un po' avanti uh c'è il mercante però qua c'è anche qualcos'altro vabbè ovviamente tanto riuscite anche a vederlo voi senza problemi qua vado da una parte e qui c'è il mercante fatemi vedere prima per di qua perché magari ok infatti come vedete qualcosa ho trovato ho trovato 10.000 petetas peses 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 ok mercante senti allora io posso ottimizzare la killer 7 la capienza non la posso più fare peccato perché volevo rompergli un attimo il culo c'ho 25 eh da 25 mi passa ah non lo so quanto allora ragazzi invece di potenziarmi sta roba qua io voglio fare di questo e e e e è una cosa che voglio fa è una cosa che voglio fare questo intanto mi ha dato un sacco di sordi vediamo non credo che funzioni eh no infatti non è disponibile perché sennò era fatta potrei comprarmi il lanciamine ah raga ma scusate ma perché se devo far mancare qualcosa non ho capito io voglio il lanciamine allora e poi mi potenzio ah raga ma sapete che io mi sono comprato il lanciamine ma oh ma che vi dico ma butto via abbiamo munizioni in più ma chi se ne frega questa posso ricaricarla e tra l'altro molti di voi mi hanno sollevato perché mi hanno detto guardaci che in realtà tu non hai sbagliato in realtà non hai sbagliato a comprartela ah che cosa sceglievi fra potenza o velocità e agevolezza sinceramente prevesco un po' più di velocità e magari meno danni un pochino quindi secondo me ho fatto la scelta giusta e penso che la rifarei penso che la rifarei senza problemi eh è da un po' che non mi fanno salvare eh questo guardaci vostro guarda ok questi sono belli potenziati eh non c'è niente da fare però non mi fido appunto di là allora invece che sprecare eh quanto corri ma che fai me lo son meritato perchè t'ho lasciato però adesso muori eh adesso muori non mi rompere le palle morite tutti fate i bravi perchè io veramente da per già mi sono preso un'accertata che non mi meritavo quindi più o meno ok quindi qua a destra che cosa allora scusate perchè qua io devo sempre esplorare molto bene fatemi vedere qua eh a sinistra ah quindi ho sinistra e ho destra e a prescindere devo andare per forza per di là perchè la la strada è chiusa e quindi me ne vado per di qua sicuramente avrò scelto una strada differente eh però nel dubbio ah hai capito se Sadler ci aspettava faceva prima e invece si attacca al cazzo oh la ho visto delle munizioni che ci potrebbero essere molto 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 utile questa è qua e 5 addirittura ok e mi sa che ho preso la strada quella secondaria ragazzi mi sa che ho preso la strada secondaria e non volendo ho raccolto munizioni qua dovevo andare ok sono praticamente ritornato sotto ah questo pezzetto me lo ricordo praticamente vabbè non ve lo spoilero perchè non lo conosce ah che schifo è tanto sti cazzi no? ahia ah 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 uh l'ha disintegrato perfetto quindi lo fa anche Ashley e si eh si avete visto le poppe come gli hanno fatto eh direi che ponna pure affanculo lei una volta ogni tanto capitolo finale attenzione la prossima puntata è quella finale nooo il film nooo no 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 però poi c'è MotoGP signori se il video di oggi vi è piaciuto pollicione in su commentate condividete io continuo a registrare lasciate un sacco di like mi raccomando anche la prossima volta bella ok